L'operazione Estrade Sicure, un'iniziativa ormai intraprese da diversi comuni, ora anche a Ceriano Laghetto. Da quando nasce la proposta vostra? La nostra proposta, la nostra richiesta, l'appello quasi disperato è nato addirittura cinque anni fa. Se con i precedenti governi Monti, Renzi e Gentiloni non avevamo avuto, non dico risposte positive o negative, ma nemmeno risposte, in pochi mesi con il nuovo governo, in particolare col ministro dell'Interno Salvina abbiamo avuto questa risposta positiva. Da ieri sono presenti qui i militari dell'esercito nelle stazioni cerianesi e devo dire che hanno avuto subito un piglio positivo nell'instaurarsi in questa situazione difficile. Quale nel concreto il modo in cui l'amministrazione pensa che la presenza dei militari possa andare a combattere il degrado presente in queste stazioni, in questa zona? A recuperare innanzitutto il terreno perduto, cioè da recuperare almeno cinque anni di assenza dello Stato, in questi anni il Parco delle Groani che è vicinissimo a queste stazioni ha ospitato una grande purtroppo presenza di spaccio di stupefacenti. In che modo? Potenziamento della presenza dei militari accanto alla nostra polizia locale, accanto ai carabinieri in queste stazioni a rischio, perché l'80-90% dei tossicodipendenti arrivano con il treno della della Sarono-Seregno, scendono, fanno pochi passi e entrano nel bosco per recuperare la propria dose e consumarla proprio in loco. Con la presenza dei militari nelle stazioni si crea diciamo uno scudo a difesa di questi territori. Una presenza quindi percepita, secondo il suo punto di vista? Una presenza percepita, devo dire, da ieri, stiamo parlando solo delle prime 48 ore, da ieri anche i cittadini hanno avuto un riscontro molto positivo e soprattutto si è ridato fiducia nella possibilità di riprendersi in mano questo parco che è diventato ostaggio dei delinquenti e dei spacciatori negli ultimi anni. Per quanto tempo persisterà la presenza dei militari? Ad oggi a tempo indeterminato, quindi noi speriamo finché non sarà liberato questo parco e le zone adiacenti. Insomma è stato piantato un seme i cui frutti si vedranno, si spera, nel prossimo futuro? La bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma sicuramente questo è un passo decisivo per ridare tranquillità e sicurezza ai cittadini ai pendolari.